Uno contro uno di Abate, cerca di saltare Radu, riesce a crossare dentro per Montari! Come nel primo tempo, inizia meglio la Lazio, il gol lo segna il Milan, Onda e Montari. I zali che diventano centroavanti, guarda Montari. Questo è un grande gol, oltretutto, perché Abate fa un'ottima azione, ma Montari arriva in spaccata e devi scegliere il tempo, altrimenti 9 volte su 10 la lisci quella palla.